È una partita difficilissima, sinceramente mi aspettavo di trovare anche Perugia in Final Four, però come abbiamo detto mille volte quest'anno è un campionato veramente di alto livello. Alla sfida del Pala Evangelisti, Trento e Perugia incroceranno colpi e umori diversi. La squadra di Lorenzetti ha iniziato l'anno in crescendo e la vittoria in Coppa Italia contro Monza ha fatto morale. Il team di Bernardi e Birarelli invece metterà in campo la voglia di rivincita perché l'eliminazione dalla Coppa brucia ancora. In palio c'è il secondo posto in classifica visto che la diate che precede Perugia di un solo punto. È una partita sicuramente di alto livello, molto lunga, con delle azioni lunghe sicuramente perché siamo entrambe squadre che muriamo, difendiamo tanto, battiamo bene. Quindi niente, è una partita difficile ma noi, come io dico sempre, viviamo per giocare queste partite. Sono queste le partite più belle quindi ci faremo trovare pronti. Il finale di stagione è lontano ma di certo gennaio sarà un mese verità per le ambizioni dei trentini. Dopo Perugia, mercoledì 18, ci sarà l'esordio in casa in Coppa Cev contro i finlandesi dell'urricani Loima. Il 21, sempre al palatrento, arriva Ravenna per la ventesima giornata di campionato, mentre il 28 e 29 a Milano c'è la Final Four di Coppa Italia. L'avversaria in semifinale è Modena.